Andiamo con la 23 Uomini e cazzo Non sarà sicuramente facile Uomini e zombie Cerchiamo un verde Non mi è rimasto tanto in vita Perché non voglio usare Non voglio usare gli oggetti Per il prossimo evento Parla passavoce perché è tardi La mia ragazza rinde Comunque proviamo A sparazzarsi dei zombie Grazie a Kelly Spero di pronunciarla bene Kelly Perché se no il nostro amichetto Puttu ci rimprovera Intanto lo saluto Grazie dei consigli Grazie che mi segui Ok andiamo Proviamo la 23 leggendario Colpo verico va a mancare Ci proviamo Io mi metto la difesa Perché non si sa mai Cazzo Eh non funziona Non sta a funzionare Cazzo raga non sta a funzionare C'è se mangiano E' inutile che usa adrenalina Tanto non è un mazzo Tacci 36 colpoli di voi E non mi ne fai un cazzo Ecco Uno è morto Certo Certo Vado a far comando E' cura Però è tanto niente Niente C'è previamente immortale E sto a perdere tutti Scusate Mi crattro il naso Sono nervoso Sono nervoso Porca troia 36 colpo critico E non abbiamo fatto un cazzo Non so più che portare a me Non c'ho più leader E colpo critico Cioè Non manco mi ricordo No 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 Mi saranno morti tutti Quelli che mi danno colpo critico Te ho andato i 4 stelle Aspetta Riproviamo Riproviamo Eh però Il problema è che È zombie umani Ormai l'abbiamo persa Quindi a sto punto Fanno così Proviamo Ammazzare i zombie Con i verdi A cazzo Non potenziati Come prima E Se Dio C'è la manipola E senza mutante Diceva quello Vediamo se Con Il colpo di 4 Riusciamo Almeno a passare I primi 2 Perché tanto Poi se schiantiamo Mi dice male Per colpo critico Vabbè Mi dice male In teoria Non ho voluto Nessuno scelta Per risuscita Per risuscita I pg buoni Perché Ho detto crema Non voglio Non voglio Usarli in questo evento Ma in quell'altro Quindi tu arrivo Con i pg qui A posto Così Eppure qui Il colpo critico Va a mancare Anche se c'è Tutto l'argo Il colpo critico E glenn Che va a colpo critico Meglio 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 Aia Regà Mo me toccano Sono morto Era scontatissimo Se manca Un colpo critico Sono fregato Abbiamo fatta O mo invece morimo Sicuro Mo morimo al 100% Però voglio provare una cosa Voglio provare una cosa Regà Non credo che li uccidiamo Però voglio provare una cosa 55 D'attacco Questa mi pare Che passa la difesa Giusto Sì Menù 45 Fai Kenny Apri un taglio Regà Gli ho fatto niente Vabbè Non sono manco potente Sono morto Oh Non ho resistito Il primo attacco Eh ma Cominciano a cadere Una l'abbiamo fatto fuori Vai più dopo Più dopo Più dopo Oh Kenny ancora Vai Kenny Niente È andato Vabbè Lo sapevamo Avevamo già detto Quindi Andiamo Stavolta Ti giuro Mi metterei Erle Però non ce l'ho Ma è già morto Mi sa Ma è già morto Dov'è Ma è già morto Niente Mette qualcuno Contro i verdi Contro i tiratori Che cos'è questo Mi sa Mettere contro i tiratori Contro i picchiatori Scusate Ehm Chiccio Ma non sto Sto messo male Sto messo male Regà Non nemmeno Farò mai a finirla Proviamo Qua Magna Perché se no Poi Se dico Se dico Un'altra cosa Fare Magna È inutile che proviamo Mettiamo Erin Mettiamo Un girofago Che è meglio E poi ci portiamo I filo Sì ci sono rimasti Però E allora direi di fare così Magna in scudo Però È magna Scusate Magna in scudo Se no Se no 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 Così mi schianto Vabbè Tanto ormai è andata a fanculo tutto Devo far fuori da piedi Ho detto scudo Ho detto scudo magna E sparo Cambierò mai Ma Oh cazzo Questo Ma Quanto tolgono Poi Curamose Ok Facciamo un attimo Di pausa Vabbè Finimo Basta È andata bene È andata bene E la 23 Stacco regà Perché Faccio un altro video Appresso a questo La 24 Comunque Bella tosta Se c'avevo i personaggi Ovviamente Li potevo Riparare Ma Non Come potete vedere Ora vi faccio vedere Così Non ve lo mostro dopo Come sto messo Sto messo Benissimo Cioè 244 Epici Posso Praticamente risuscitare Il mondo Ma non lo voglio fare Oltretutto Questi colorati C'è no 30 30 31 22 19 Comunque Al prossimo video Facciamola 24